Salve, sono lieto questo sabato di iniziare una nuova serie di incontri organizzati in collaborazione con il Consorio Italiano di Psichiatria, dedicati al cinema e alla psichiatria. In realtà questa è l'unica volta in cui mi vedrete in quanto a condurre questi incontri sarà Matteo Balestrieri, che saluto. Ciao Matteo. Ciao. Allora, che forse voi ben sapete insegna psichiatria, ma soprattutto è un grande amante di cinema, infatti cura anche per Psichiatria Online, una bellissima rubrica in cui presenta dei film e ne sottolinea il collegamento spesso con la psicopatologia, con la rappresentazione del dolore mentale. Ecco Matteo, io volevo introdurre dicendo che in realtà il cinema è la forma d'arte forse più importante per rappresentare la contemporaneità, ma al tempo stesso, come dicevo prima, è spesso un modo anche, come dire, per film vecchi, non soltanto certo per i film nuovi, per rappresentare l'animo umano e tutte le sue sfaccettature anche patologiche. Vogliamo un attimo un po' introdurre questa serie di incontri che ogni sabato per un po' di tempo porteremo avanti con te? Sì, lo scopo di queste pillole, di questi interventi brevi è proprio quello di esemplificare attraverso il cinema, il cinema è una forma d'arte straordinaria perché è l'espressione di menti pensanti che sono i registi, ma poi ci sono gli attori che poi interpretano personaggi e sono storie, storie e la psicopatologia nasce dalla visione, dalla raccolta di storie. Ora, ovviamente il film non ha intenti di tipo descrittivo nosografico, quindi dobbiamo cogliere proprio gli aspetti sintomatologici, ma proprio perché il film racconta storie riconosciamo la storia che c'è dietro ad ogni espressione psicologica e psicopatologica, quindi riusciamo a ricostruire il senso dell'esistenza di questi sintomi. Ecco, io credo che il cinema ci dia questo grande pregio, non perché poi rappresenti in modo assolutamente oggettivo, ognuno esce poi dalla visione del film con una propria idea, quindi ci mette del proprio, ed è proprio anche attraverso questo confronto che è bello proprio raccontare storie e cogliere gli aspetti psicopatologici. Questo è quello che io faccio a lezione, in alcune… Dicami un po', perché infatti questo volevo un po' sottolinearlo, in realtà questa iniziativa che abbiamo deciso di portare avanti nasce anche non solo dalla tua competenza nell'ambito cinematografico, ma anche dal fatto che tu come professore di psichiatria usi il cinema a lezione. Io credo che sia un punto importante da sottolineare. Puoi un po' spiegarmi come è nata questa idea e come i ragazzi reagiscono? Ma quello che è nato è perché ovviamente mi piace apprendere io stesso, in primo luogo, dalle storie e dalle storie dei pazienti e quindi dalle storie anche raccontate sullo schermo, apprendere che cosa sta succedendo, farmi un'idea, cercare di capire che cosa è possibile fare, ovviamente questo nel caso dei pazienti, il film, il mio ruolo è ovviamente di tipo passivo, perlomeno nel momento della visione. far vedere agli studenti, non dico il paziente perché non è mai il paziente nel film, ma la persona che si comporta in una certa maniera e ovviamente commentare insieme a loro il perché e il come e il contesto in cui si svolgono le cose, perché anche questo è molto importante. Se tu hai un paziente davanti, lo vedi seduto di fronte a te e lui ti racconta storie, ma il cinema ti permette di vedere anche il contesto in cui i sintomi si sviluppano. Quindi il cinema è dinamico, è vitale, è progressivo, è longitudinale nella sua visione e poi ci sono anche tutti gli altri che sono presenti accanto al protagonista o ai vari personaggi che contribuiscono al loro modo. Quindi la visione di clip di film, non faccio mai vedere un film nella sua completezza, non avrebbe nessun senso, seleziono delle scelte, quindi una scelta anche arbitraria, ma mi permette di commentare anche, a volte dei film per esempio ne utilizzo delle clip in successione e quindi racconto tutto un film attraverso una storia unica, a volte invece utilizzo delle clip di film diverse per illustrare diversi aspetti della psicologia e della psicopatologia del personaggio. Come ti sembra che dal punto di… perché poi questo è anche un po' lo scopo di questi nostri incontri, che è quello proprio di avere anche un aspetto un po' didattico, se vogliamo. Ti sembra che i ragazzi recepiscano positivamente questa cosa? Cioè il capire come il cinema possa aiutare a capire l'animo umano passa come informazione? Assolutamente sì, io lo vedo all'esame dove loro, gli studenti, gli faccio una domanda e loro mi rispondono come è successo e fanno l'esempio del film. Quindi questa immagine visiva, che non è solo visiva ovviamente, è anche uditiva, perché questi sono più sensi che sono coinvolti, e fanno riferimento appunto a questi esempi per illustrare la loro risposta. Quindi sono rimasti particolarmente colpiti dall'immagine che hanno avuto e ovviamente loro, quando presento qualche clip, sono piacevolmente coinvolti e dopo un po' che sanno come sono le mie lezioni, in cui faccio tutta una spiegazione di tipo nosografico, psicopatologico, eccetera, eccetera, ma poi li porto a vedere delle esemplificazioni di questo tipo e quindi c'è anche un'attesa da parte loro rispetto a questo ultimo aspetto che poi alla fine reifica, fa vedere concretamente come è la cosa e quindi anche riesce a vincere anche determinati, superare determinati stereotipi che gli studenti stessi, anche di medicina, hanno, no? E' anche un modo per vincere anche un certo tipo di stigma, secondo me. Io sono totalmente d'accordo, in effetti quello che tu hai detto è lo scopo del nostro progetto. In realtà noi con la serie Caffè Psichiatria che precede i tuoi interventi durante la settimana, abbiamo fatto un progetto di educazione sanitaria fondamentalmente, ma anche questo che stiamo portando avanti con te al sabato ha uno scopo di educazione sanitaria. Come tu giustamente dicevi, è anche un modo per provare a superare lo stigma nella misura in cui si mostra come la patologia mentale è qualcosa che esiste in quanto noi uomini, in quanto noi, come dire, capaci di provare sentimenti e quindi anche di provare il dolore mentale. E quindi l'aiuto che ci può dare il cinema è molto importante e diciamocelo, da cinefili come siamo io e te, è anche una speranza di chi vede, come dire, queste puntate che seguiranno questa prima introduttiva di venire voglia di guardare tanto cinema, che secondo me fa bene a tutti, non soltanto agli psichiatri, non sei d'accordo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Sentirsi nella stessa onda del... della stessa onda del...